Oggi è l'anniversario, il terzo anniversario della morte di Gabriele Santi, detto Gabbo. Ieri siamo qui nell'area di servizio di Maria Alpino, dove venne colpito dalla gente di polizia Spaccarotella. Questo dove ora campeggia una pubblicità è il pilone più o meno usato per lasciare scritte, lasciare sciarpe, depositare. Ora ci stanno tra l'altro fotografando questo signore, andremo a sentire cosa vuole, perché tutto pensavo meno che di essere fotografato io. C'è la Digos e probabilmente c'è una gran paura che succeda qualcosa. Perché? Venite con me, intanto ne parliamo. Perché la società autostrade all'inizio non aveva dato il permesso di lasciare una targa. Poi la famiglia Sandri ha fatto opposizione, ha chiesto tramite il sindaco di Roma Lemanno, tramite la presidente Polverini della regione Lazio e la società autostrade cosa ha fatto? Ha detto, vabbè sentiamo l'autogrill, il terreno dove insiste l'autogrill che è nel comune di Civitella in Vaticana. Il comune di Civitella in Vaticana si è sentito tirato un caso, ha detto, ma come fino ad ora avete messo mille cartelli, non ci avete mai chiesto nulla, perché oggi ci chiedete della possibilità di mettere questa targa? Poi alla fine, grazie a questi interventi, la famiglia Sandri è riuscita ad avere l'ok, a patto che questa targa serva come deterrente alla violenza negli stadi. E dall'area di servizio di Badia Alpino ci spostiamo all'uscita di Arezzo, in località Battifolle, dove in realtà Gabriele Sandri morì, perché fu colpito nell'area di servizio e morì qui. Infatti è stato posto un masso di fiori con la scritta Gabriele è con noi. Ricordo per coloro che non lo sapessero che i primi di dicembre riparte il processo di appello per il quale l'agente Spaccarotella in prima istanza è stato condannato per omicidio colposo. E poi saranno i giudici che avranno il suo iter. Noi ci limitiamo come mezzo di informazione a dirvi quello che ricorreva oggi e ovviamente a lasciare alla magistratura le sentenze che gli competono.